Buongiorno, buongiorno! Ti faccio vedere, adesso la mia crema sta per finire, me l'ero già data ma me la ridò per te, questa è la quantità, guarda non ne devi prendere di più, assolutamente, questa qui è la quantità della crema che devi picchettare così, fai proprio, vedi me la ridò anche troppa e vado qua sotto, guarda è pochissima, ma questa è la quantità giusta, la spatolina poi la puoi pulire anche perché così la sterilizziamo, io la lavo sotto l'acqua e poi la metto sopra la crema, tu prendi con i polpastrelli, ho toccato la crema, vedi, mi inumidisco i miei polpastrelli e anche il pollice e poi inizi a fare questi movimenti, vai sempre dal centro verso l'esterno perché la nostra pelle tende a cadere e invece noi dobbiamo andare a sollevarla, vai anche nel contorno labbra, vai sul naso qui e sulla fronte, dai non ci metti due ore, qua io faccio così per distendere anche il discorso che col pollice vado lì e con questo qui vai a ripressionare la circolazione, la microcircolazione anche dove abbiamo la palpebra cadente, quindi andiamo a più di più l'occhio e poi fai sempre questo movimento qui dall'interno del naso tipo una preghiera verso l'esterno e nel collo vai dal basso verso l'alto con quel pochino di crema che hai messo, basta, basta per tutta la tua giornata e per tutta la tua pelle più tu fai un minuto, adesso è un minuto e 51 di questo movimento qui, proprio anche così guarda Cri, apri tutte le mani la tua crema va a più assorbirsi, questo movimento lo fai sia col siero che con la crema perché vanno ad assorbirsi più in profondità se per caso le prime volte senti che è pesante non avere paura perché la tua crema deve essere ricevuta dal tuo viso quindi lui butta fuori tutto, continua, vai avanti, magari all'inizio ne metti meno se senti che è un po' pesante e poi dopo metti la quantità che ti ho fatto vedere nella spatola, sempre meglio, poco prodotto perché aggiungere fai tempo un bacio e buon domenico a tutti, ciao!